L'amore e l'amicizia costruiscono la struttura di questo splendido romanzo dell'autrice americana che non conoscevo e scopro per la prima volta. Parlo dell'arte del matrimonio, edito da Bonpiani, 280 pagine, dove ci si innamora della storia di due coppie su 50, sposati da tempo, che si dedicano al lavoro assiduo e faticoso dell'assenza, ovvero la morte di uno dei quattro che sottrae equilibrio a tutta l'amicizia intercorsa tra i protagonisti del libro. Possiamo definire quest'opera di un ordine narrativo armonioso che consente di sottolineare ogni singola voce autoriale nell'unico monadico corpo del romanzo.